Per invertire il trend casalingo il Montesilvano ha bisogno di battere il Ponte Vomano e confermare quanto di buona prodotto a Casalbordino. Mister Antignani recupera i fratelli Malocu dopo un turno di squalifica ma perde San Maciccia per lo stesso motivo. Dall'altra parte il Ponte Vomano dopo il K.O. interno con il capistrello strizza l'occhio all'obiettivo salvezza. Mister Piccioni si affida a Touret e all'estro di Polisena in attacco perdendo nel riscaldamento Cernaz. Fischia a Paul Haka i Eucumere dell'Aquila. La cronaca regala subito un gol. Malocu con un po' di fortuna trova bassi assist al bacio per Daka che deve solo spingere il pallone in porta. 1-0 e terzo centro in campionato per il classe 2002. Malocu, Marrone, Daka, Bassi gioca a memoria al Montesilvano che con il numero 11 non riesce a finalizzare. Ancora Daka si presenta a 2x2 con Gava. Bravo e fortunato il portiere in tenuta rossa. Spinge sull'acceleratore la squadra di casa guidata sempre da Besi Malocu. Destro deviato che vale il raddoppio e il sesto gol in campionato. Il Ponte Vomano cerca la scintilla con il duo offensivo. Ubertini si oppone a Polisena. Nella ripresa il copione del match viene totalmente stravolto da un Ponte Vomano in versione super. Si rinnova la sfida a Polisena-Ubertini, il portiere, migliore in campo della partita, si allunga e devia in angolo. Sul corner stacca colpo sicuro Basilico, Samuele Barbarossa ben appostato elimina la minaccia. Il 2-1 è nell'aria e si manifesta al sedicesimo spizzata intelligente di Polisena. Sbucaturè che non perdona. Mister Piccioni capisce che bisogna battere il ferro finché è caldo. Ubertini, chiamato in causa sulla conclusione di Di Stefano, non si fa trovare impreparato. Provano a scuotersi i pescaresi. Leonardo Malocu approfitta di un'azione confusa. Gava gli sbara la strada e sulla ribattuta Lupinetti non inquadra il bersaglio grosso. Versante opposto, Ubertini con l'aiuto del palo sputa fuori la bordata del 2002 Leonzi e il preludio al pareggio. La carambola in aria favorisce Polisena che da attaccante di razza trova il gol del 2-2 e la settima gioia in eccellenza. Non si fermano gli ospiti. Sgaloppata di Monaco, Ubertini respinge su Touré che alza la mira. Un gira di lancette e il numero 9 ha un'altra ghiotta occasione. Marcedula sulla linea, evita la capitolazione. Nel recupero vola via Touré ai difensori di casa. Ubertini con una parata strepitosa inchioda il punteggio sul 2-2. Nel quinto minuto di recupero contatto sospetto tra Cavallucci e Leonzi per il direttore di gara tutto regolare tra le proteste dei Verde Oro. Una gara spettacolare tra Montesilvano e Pontevomano che muovono la classifica tra nervosismo e rimpianti. Mister Piccioni un po' in difficoltà nel primo tempo, una ripresa dominante però non è bastato per portare a casi 3 punti. Ma questo è il rammarico più grande perché alla fine della partita volevo fare i complimenti ai ragazzi ma non ci sono riuscito perché abbiamo letteralmente buttato il primo tempo. Abbiamo fatto una ripresa straordinaria, credo hanno fatto un contropiede e noi abbiamo avuto 7-8 palle e gol clamorose. Però non ci gira mai bene, vuol dire che dobbiamo fare ancora di più. Ripeto, l'unica cosa che posso rimproverare alla mia squadra è l'atteggiamento del primo tempo dove siamo entrati i mosci, non mi è piaciuto assolutamente. Però dopo vanno fatti i complimenti perché ribaltare un risultato del genere e secondo me meritare anche la vittoria è qualcosa di importante per una squadra che oggi aveva 7-8 assenze importantissime. Che cosa ha detto ai suoi all'intervallo? Ho detto che la squadra era troppo brutta per essere vera e che bastava una scintilla per cambiare tutto. Ho detto voglio vedere se siete questi, allora non possiamo fare niente ma io credo che siamo molto molto di più. Volevo vedere una prova d'orgoglio nel secondo tempo e l'hanno fatto la grandissima. Mister Antignani, un buon primo tempo e poi nella ripresa possiamo dire che sia più un fattore mentale che fisico a questo punto? Sì, hai ragione, è proprio un fattore mentale. Perché il primo tempo abbiamo giocato solo noi, poi come succede sempre tutte le domeniche, si è spende la luce. Il secondo tempo abbiamo rischiato 3 o 4 volte di prendere gol. Quindi alla fine penso che il pareggio sia giusto a prescindere dall'episodio finale che ormai non ci faccio più nemmeno caso perché è una cosa domenicale e puntuale. Secondo lei come si può risolvere questo problema? Io non lo vedo un problema, sono cose nostre interne che cercheremo di risolvere tra di noi guardandoci negli spogliatori, guardandoci in faccia. Il resto io non vedo tutti questi problemi, anche perché ripeto, non siamo fenomeni quando vinciamo a casa al bordino, non siamo brocchi quando perdiamo in casa, siamo una squadra. e un po' così dobbiamo cercare un attimino di regolarizzarci.